Bentornati su Radio Design, io sono Nicola Pallumbo, oggi torniamo dalla pausa natalizia, speriamo che voi abbiate fatto un sacco di foto a questo punto, oltre ad aver mangiato come al solito, e torniamo oggi con una puntata dedicata a… Allora, oggi parliamo di fotografia con Claudia, Ioanna e Massimiliano Tuver, di Ficili Creativi Italiane, e parliamo di Sebastiao Salgado. Uno dei tanti. Uno dei tanti super fotografi, no? Allora, uno dei nomi, diciamo, della fotografia mondiale, che è più amato anche dal pubblico e per vari motivi, perché sia come fotografo, quindi sia anche per il suo impegno in favore dell'ambiente. Sì, allora, Salgado nasce nel 1944 e, contrariamente a quello che tutti pensano, arriva alla fotografia molto tardi, in quanto lui fa degli studi economista, quindi si laura in economia e comincia a lavorare per il comitato del caffè, sostanzialmente. e quindi che cosa fa? Lui prende e fa spesso dei viaggi anche in Africa, ma si occupa relativamente di economia. Poi durante tutti questi viaggi, che ha 27-28 anni, scopre la sua passione per la fotografia e quindi inizia a fotografare sostanzialmente quello che trova nell'Africa, no? Sì, naturalmente il fatto di avere un background formativo, insomma, così di istruzione, così consente di avere una capacità anche di valutazione particolarmente approfondita di tutte le realtà con cui si va a confrontare. Quindi è molto interessante, in realtà, il suo approccio, che è considerato umanista per eccellenza, lui è uno degli esempi planetari di fotoreporter umanista, quindi che ha piena consapevolezza di tutta la realtà, sia economica che esede, che racconta, ma con una capacità di medesimazione, per quello che riguarda l'aspetto umano, che veramente lo distingue poi da tutti gli altri sguardi fotografici, puramente fotografici, sulle stesse realtà. Capacità di interpretazione che gli creerà più avanti nella sua carriera, non pochi problemi a livello personale proprio, perché diciamo che assorbe un po' tutto quello che vede, quindi tutto quello che gli rimane gli crea anche dei problemi fisici che in un certo arco della sua carriera lo faranno anche interrompere di fotografare, purtroppo. Comunque quello che riesce a raccontare in Africa sin dall'inizio è una cosa molto bella, perché praticamente mente risalto tutto quello che l'uomo faceva in quel momento, quindi realizza diventi reportage a partire, diciamo, dagli anni 70, basati sul lavoro dell'uomo e su quello che l'uomo produceva, famosi sono i suoi reportage sui pozzi petroliferi appunto in Africa, un certo tipo di lavoro che in prima battuta il sguardo era quello che si metteva in gioco personalmente, cioè lui non fotografava distante da quello che accadeva, ma stava all'interno, quindi per esempio i pozzi petroliferi, si metteva in gioco direttamente, si sporcava di petrolio, stava all'interno, siamo insieme ai ragazzi che lavorava e quindi questo suo sguardo un po' differente, perché nello stesso momento era distaccato, perché manteneva una certa distanza nelle fotografie che si nota e in questo momento raccoglieva quell'aspetto umano che a cui accennava prima Claudia, che lo contraddistingueva proprio come fotografo di reportage. Una delle caratteristiche sue, che proprio ogni lavoro, quindi ogni paese che ha visitato e quindi raccontato, in realtà per lui ha rappresentato un'occasione di cammino, per esempio, perché lui attraversava quindi per mesi, a volte i passaggi fotografici duravano mesi o anni, quindi si metteva proprio lo zaino in spalla e incontrando le persone e andando quindi a mescolarsi quasi all'interno appunto della situazione che lo aveva mosso insomma ad andare a raccontare. Una caratteristica appunto sua è proprio questa, di calarsi all'interno anche del disagio, se vogliamo, ma di raccontarlo sempre con un punto di vista sull'uomo che gli restituisce una sua dignità, magari la disperazione o la difficoltà del vivere, ma sempre raccontando l'uomo e non la povertà, il disagio in se stesso. Questa caratteristica gli nasce anche dai suoi natali, in quanto lui studia in Francia, ma è un fotografo, è brasiliano, quindi nasce in Brasile, i suoi genitori avevano una fazenda che poi diventerà sua e all'ultimo spiegheremo anche le particolarità che ci saranno in questa fazenda, però questo tipo di sguardo è derivato appunto dall'ambiente, dal tipo di luce che lui aveva, infatti lui amava dire che lui non stava tanto a studiare il tipo di luce che c'era o l'inquadratura che doveva fare, ma gli nasceva tutto da dentro e quindi è una fotografia, come dire, introspettiva, cioè che in un certo qual modo lavora se stesso, però facendo vedere gli altri. Questo si nota sempre quando è l'uomo appunto il protagonista dell'ambiente, ma l'inizio del fotografo infatti è caratterizzata prevalentemente dalla presenza umana e quindi anche dal ritratto fotografico, quindi i suoi soggetti sono rappresentati in modo veramente dei gesti o comunque sono colti in situazioni che sono veramente molto emotive anche, si riesce veramente a cogliere questa rappresentazione dell'uomo in modo quasi biblico, epico, sempre in situazioni che fanno pensare poi anche in parallelo a, non so, appunto la Bibbia, se non a Dante e qui potremmo, come dire, già lanciare una piccola intersezione, nel senso con altre arti, con altri linguaggi. Uno dei lavori più importanti appunto di Salgado è stato realizzato nella Serra Pelada, in Brasile, che è una miniera d'oro e sostanzialmente il suo racconto è di questa immensa miniera a cielo aperto in cui un numero impressionante, inizialmente si reca ogni giorno, si cala giù attraverso delle scale, calando nel fango e scavando e tirando su sacchi di terra e di fango, sperando di aver trovato una vena aurifera e quindi di aver trovato almeno una pagliuzza d'oro e tutta questa scena apocalittica quasi non può che riportare alla mente l'idea del girone infernale che appunto nel corso di uno dei nostri incontri appunto intersezioni abbiamo fatto vedere in parallelo con appunto Botticelli. Botticelli aveva appunto rappresentato una serie di tavole, quasi un centinaio, una serie di tavole della Divina Commedia, una delle più forti forse, proprio l'avoragine infernale in cui si vedono questi gironi appunto con i dannati che in qualche modo però sono rappresentati in un modo abbastanza stranamente affine a quelle insomma le rappresentazioni di Salgado in cui veramente c'è l'uomo ripreso nel pieno appunto della sua vita che dall'esterno forse può sembrare una tragedia ma che lui tiene molto ad evidenziare non come una forma di schiavitù ma come una forma di vita quasi normale per loro, cioè questa chimera di poter trovare chissà forse una volta almeno dell'oro che finalmente farà svoltare questa loro vita disperata. Infatti noi invitiamo tutti a dare un'occhiata a questo lavoro che si chiama appunto, come ha detto Claudia, Serra Pelada e sono importanti anche le parole che ha utilizzato lui per descriverlo e che ci danno un attimo il senso della situazione che lui ha trovato in quel momento, cioè lui è arrivato in questo buco sostanzialmente perché era pianeggiante, quindi è un buco all'interno della terra proprio e non c'erano macchinari, non c'era nulla, l'unico rumore che si sentiva quando lui si è affacciato ai bordi di questo buco era il brusio, il parlare di 50.000 persone che lavoravano all'interno, quindi tu immagina una cosa da pelle d'oca perché sostanzialmente tu senti il brusio di queste persone e questa lotta verso la ricerca di qualcosa che ti fa cambiare il modo di vivere. Un riscatto. Esattamente, non c'è, come ha detto Claudia, nessun tipo di schiavitù all'interno di queste, tu sei portato a pensarlo, no? Perché vedi persone che lavorano, cioè l'unica maniera per scendere, esatto, per scendere in questa miniera era quella di scivolare lungo una discesa, ma di corsa, perché se ti fermavi rotolavi fino a giù e quindi dovevano correre e risalivano tramite scale con dei sacchi sulla schiena. Scaletti di legno veramente con questi sacchi appesi. È una visione apocalittica, letteralmente. Adesso mi dispiace, non possiamo far vedere direttamente le foto, però andatela a vedere, perché è una cosa veramente bellissima. Sì, merita veramente. Poi comunque l'Africa resta nel sangue proprio a Salgado. percorre l'Africa in lungo e in largo a piedi, purtroppo anche in periodi per sua scelta, naturalmente molto tragici, e quando appunto viene a contatto anche con realtà come quelle del Ruanda e assiste, ma dall'interno quindi, a eccidi terribili, quindi nell'ordine non delle centinaia, né delle migliaia, ma delle decine di migliaia. Un milione di morti. Sì, lui personalmente ha vissuto dieci, quindicimila morti, decessi, quindi questo lo ferisce, lo lacera profondamente, lo lascia provato naturalmente, psichicamente, ma anche fisicamente. Quindi sotto un certo punto di vista fa un passo indietro, è costretto proprio per motivi proprio di salute fisica e anche mentale, a fare un passo indietro rispetto alla fotografia e quindi era pronto addirittura a lasciare, insieme alla moglie, che è una figura, Leila, molto importante nella sua vita, perché veramente credo che sia uno degli esempi, magari, non so, ce ne sono molti, però di coppie in cui c'è un ruolo molto forte, insomma, in chi sta accanto ad un nome molto noto. La moglie è l'ideatrice di una serie di elementi molto importanti nella vita di Salgado, per esempio l'aspetto editoriale. Tutte le fotografie di Salgado diventano dei libri che però hanno delle caratteristiche che sono uniche nel mondo dell'editoria. Per esempio Genesis, che è uno dei libri più famosi, è un libro di formato immenso, ideato appunto dalla moglie Leila, con le fotografie appunto spalmate sulle doppie pagine, per cui alla fine risultano delle fotografie meravigliose, con una qualità di stampa eccezionale. Lui era un grandissimo, cioè è un grandissimo fotografo, quasi maniacale, per quello che riguarda appunto la qualità e la resa, insomma, delle sue fotografie e i suoi libri sono veramente qualcosa di prezioso, proprio anche da toccare, da guardare. E insieme a lei... La moglie praticamente non si occupa di fotografia, si occupa di design, e praticamente ha studiato questo libro, come altri libri, per farlo scorrere e per, tra l'altro quando uno lo compra, ha un piccolo piede di stato, puoi poggiare materialmente il libro lì sopra, e magari tenere una foto aperta, perché sono tutte foto a doppia pagina, e quindi magari tiene la foto aperta per un giorno, una settimana, non so, diverse ore, per farla fruire come se fosse una cornice. Immersi, immersi proprio. E questo è un momento molto importante nella sua vita, in cui si ritira dalla fotografia e torna in Brasile. A questo punto riprende la azienda di famiglia, dove però l'abbandono e comunque le condizioni anche climatiche, i cambiamenti climatici avevano ferito questa terra, praticamente si era persa gran parte della preziosità dell'ambiente stesso, quindi era un luogo abbandonato, in cui gli alberi erano in gran parte morti. Per cui la moglie ha l'idea di riportarlo proprio a vivere Salgado attraverso l'ambiente, e quindi ricominciano a piantare quella che era la foresta pluviale e che era andata perduta lentamente, ricostituiscono quindi l'ambiente della foresta pluviale in un'area immensa, e arrivano a piantare fino a due milioni di alberi, che ricreano in questo modo un vero e proprio ecosistema pieno di nuove di vita e di biodiversità. Questo fa nascere in lui nuovamente la passione per la fotografia, però cambia l'approccio alla fotografia, e lo cambia sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo proprio del soggetto che va a ritrarre. Prima, come ha detto Claudia, i suoi soggetti erano le persone, l'essere umano all'interno, sempre in un contesto ambientale, però comunque è un essere umano. Adesso, e a partire da quegli anni, lui si occupa prevalentemente di natura, e quindi da lì parte e crea questo libro, che è Genesi sostanzialmente, che racconta tutto il pianeta Terra, perché lui praticamente arriva a dire che circa il 50% del pianeta Terra, così come lo conosciamo, è ancora così come è stato nel momento della Genesi. Quindi lui ripercorre tutte quelle zone e va a fotografare. Fotografa anche in maniera differente, perché lui nasce come fotografo a pellicola, analogico, no? Sostanzialmente perché in quegli anni ovviamente quello c'era. E il cambiamento, c'è la prima un cambiamento base sulla pellicola, perché passa da un 35 mm normale, lui è appassionato di macchine laiche, quindi facilmente trasportabili, ha un medio formato, quindi una macchina che utilizza una pellicola da 120 mm e che è più performante sotto il profilo proprio della incisività, della resa, appunto delle caratteristiche, insomma, che la fotografia poi tira fuori. Quando deve intraprendere il viaggio per Genesi, e parliamo di un viaggio tipico di Sargatale, quindi sei anni di lavoro. Anni. Esatto. Tra l'altro la metà di questi fatti praticamente a piedi su terreni... Anche senza strade, quindi veramente... Facciva. E fa un piccolo calcolo da economista e si accorge che per tutto questo viaggio avrebbe dovuto portare con sé circa 30 kg di ruling grafici. Quindi un peso, un ingombro assolutamente fuori proprio dalla portata, insomma. Troppa roba. 30 kg sono tantissimi. Poi considera pure la problematica, insomma, perché negli aeroporti in quegli anni, poi siamo nel 2000, quindi insomma anni un po' duri, c'era il discorso dei controlli, quindi raggi X, quindi tutti questi ruling comunque avere un deterioramento, esatto, riguardo proprio alla qualità finale, no? Anche perché lui era passato dalla Laica alla Pentax 645, insomma, per ottenere una migliore qualità, che però gli veniva degradata durante tutti questi passaggi attraverso i controlli di sicurezza per anni, perché queste pellicole venivano esposte per anni a queste radiazioni. per cui di qui decide la svolta. Decide di passare al digitale. Quindi la svolta verso il digitale e quindi opta per uno zaino contenente un chilo e mezzo di schede. È pochissimo, no? Un chilo e mezzo di schede. Esattamente. Che però rispetto a uno zaino con 30 kg di ruling è stato un banditaggio notevolissimo. Ma perché allora non è che c'erano tutte queste schede così... Cioè, ora... Un chilo e mezzo passerebbe a 300 grammi di schede. Sicuramente. Però considera pure che, ecco, anche tu hai fatto una considerazione interessante, no? Perchè c'erano schede di memoria con una capienza grandissima. Però tu considera che cominci a scattare su una scheda di memoria da 128. Certo. D'accordo? E questa scheda, siccome è un blocchetto di silicio, ti si rompe, ti casca, ti si spezza. Fai il backup. Quante foto hai perso però se tu hai fatto un'unica scheda da 128? Tantissime. E quindi sostanzialmente il segreto è quello di avere la scheda e cambiarla un po' più spesso in quanto così ti rimane insomma la macchina. Il rischio di perdita è limitato. Questo sì, un consiglio per i fotografi che tendono appunto a risparmiare ma ormai parliamo di grammi quindi c'è un risparmio molto limitato però il rischio di rottura delle schede c'è sempre. Questo vabbè è una piccola divagazione tecnica ma può essere interessante per i fotografi. Adesso ci sono anche quei mega hard disk che fanno il backup automatico. Bravissimo. Infatti adesso è molto più semplice. Quasi nessun fotografo al giorno d'oggi si porta presso milioni di schede di memoria. Ci stanno dei programmi e quindi tu come entri in una zona diciamo che c'ha la possibilità di un collegamento internet scarichi tutto in backup online e quindi c'hai tutto terabyte di fotografie che non c'hanno mai nessuno. Sì, nel 2000 mi sa che era abbastanza un delirio diverso. Nel 2000 era diverso e comunque ha intrepreso questa svolta proprio per facilitare. Poi lui era particolarmente appassionato diciamo alla fotografia a pellicola curava tantissimo la stampa e anche le sue fotografie che hanno quei neri così densi ma anche quei bianchi particolarmente evidenti sono motivati dal fatto che lui proprio interveniva a pennello su alcune zone durante la stampa con gli spiancanti particolari che fanno sì che alcune fotografie sue siano immediatamente riconoscibili come di Salgado perché per esempio non so la famosa fotografia delle montagne con in mezzo il fiume che appare bianco sembra un fiume di luce invece che d'acqua derivano proprio dalla sua cura proprio personale insomma nell'ottenere quel tipo di risultato che è quasi photoshop primordiale non fatto a pennello che pazienza vabbè l'hanno sempre fatto la caratteristica di un grande fotografo è proprio questa non è solo quella diciamo della pubblicazione fino a se stessa ma è anche il discorso del creatività della creatività ma anche del pensiero alla mostra fotografica che è qualcosa di diverso siccome lui ama stampare in grandissimo formato quindi le sue stampe sono molto grandi la cura deve essere veramente celsa su tutte queste cose e come diceva Claudia lui interveniva sulle zone diciamo più ombreggiate per andare a schiarire a mano tutto quello che era un ombreggio quindi sono anche dei quadri diciamo le sue fotografie e questo effetto lievemente pittorico le persone lo notano e lo amano moltissimo proprio si contraddistingue per questo per cui oggi come oggi Salgado è un fotografo famosissimo ma si muove nel mondo anche per perorare la causa dell'ambiente non soltanto in Brasile ma proprio di tutto il pianeta insomma il suo appello è proprio a salvare tutto quello che lui ha fotografato per mantenerlo quanto più integro possibile questo sta naturalmente all'uomo insomma riuscire ecco a preservare perché poi lui è una persona che quando parla riesce veramente ad arrivare agli animi anche del suo pubblico per cui veramente ottiene una grandissima attenzione quindi il suo impegno è anche fruttuoso insomma è incomiabile anche per questo beh considera che dietro di lui anche ci sono tantissime anche case editoriali altri fotografi che comunque gli danno una mano a portare avanti un progetto che è quello ambientale esatto una fondazione fatta proprio ad hoc per questo che è veramente notevole ma dispendioso sia sotto il profilo diciamo fisico che anche economico la Tashen è una di quelle che appoggia notevolmente tutte le sue e che ha anche impegnato dei fondi proprio per l'ambiente insomma misura anche molto molto notevole però ecco diciamo che oggi come oggi ha a cuore forse il pianeta tramite il mezzo della fotografia che comunque no è quasi sì è un utilizzo diverso cioè lui con la fotografia mette in evidenza appunto tutto quello che di male stiamo facendo al giorno d'oggi ma anche quello che di bello naturalmente di quindi di degno insomma di essere salvato per forza insomma c'è nel mondo che forse va ricordato e lui lo fa appunto in un modo a cui nessuno resiste chiunque guardi le fotografie di Salgado viene preso viene colto da questo furore ambientalista perché veramente arriva direttamente all'animo umano insomma e poi c'era anche c'è un libro dedicato un film dedicato a questa cosa è famosissimo ed è il sale della terra tra l'altro il registro è Vim Venders tutti quanti consigliamo di dare un'occhiata perché non solo l'approccio alla fotografia per chi è magari appassionato di fotografia all'interno vedrà delle fotografie fantastiche però è bello perché come dire un certo tipo di cultura ambientale ambientalistica nasce anche da questo tipo di video da questo tipo di film che racconta proprio questo passaggio questo spostamento diciamo dell'interesse del focus appunto di Sebastiano Salgado dall'uomo al pianeta quindi alla natura ed è bellissimo anche questo ha avuto un successo straordinario ho conosciuto lui tramite il film perché per molti è così un personaggio importantissimo della fotografia infatti abbiamo detto un sacco di robe molto interessante come al solito resto ad ascoltare perché è sempre molto interessante non intervengo per questo perché i contenuti sono sempre validi allora direi che adesso continueremo settimanalmente a produrre questi contenuti arriveranno nuovi contenuti magari fra 15 giorni intanto finalmente il podcast lo ripeto sempre potete abbonarvi al podcast sia su Spreaker che su iTunes che su Spotify quindi mentre vi allenate con la musica truzza potete anche ascoltare cose interessanti chi va in palestre tra l'altro Nicola come abbiamo già stabilito partiremo a brevissimo con delle piccole pillole di fotografia è importante quello che hai detto perché magari uno mentre si allena mentre corre qualcosa di fotografia è interessante quindi anche sotto il profilo tecnico per chi è appassionato e magari non c'è il tempo di venirci a trovare in sede esatto riuscirà a fare qualcosa in realtà parlavo a me stesso perché sono io che purtroppo devi ascoltare un po' di musica ad alti beat se no poi però ci sta sempre di me io lo faccio alterno i podcast l'ascolto dipende dall'allenamento oppure il podcast lo sapete tutti potete ascoltarlo mentre siete in macchina ovunque adesso con bluetooth è facilissimo usufruire di questo contenuto ovviamente questi video poi li trovate anche su facebook su radio design l'istituto italiano di design da cui parliamo ovviamente e anche su youtube quindi un pochino vu e anche sulla pagina di officine creative l'officina creative che rilancia il contenuto ovviamente quindi grazie ancora io come one man show chiudo qui la diretta grazie a tutti un saluto a tutti grazie e alla prossima settimana